A Palazzo dell'Economia a Pesaro si è parlato della nuova via della Seta. Il presidente della Camera di Commercio Alberto Drudi ha incontrato l'ambasciatore della Georgia in Italia Carlo Siccarulizze e ha parlato di un ponte strategico per l'Asia. Il paese è molto interessante soprattutto anche per i rapporti economici. L'iniziativa è nata attraverso un'altra iniziativa del Comune di Pesaro che riguardano i rapporti culturali tra questo territorio e la Georgia. Oggi abbiamo ragionato anche su quelle che possono essere le opportunità sotto l'aspetto anche imprenditoriale. La Georgia è interessata a costruire rapporti nel campo della meccanica, nel campo del mobile arredamento, soprattutto nel campo dell'agricoltura. È un paese che ricerca proprio imprenditori italiani su questo e l'obiettivo nostro attraverso questo incontro è quello di, nel giro di qualche mese, costruire un rapporto, un progetto, Camera di Commercio, Comune di Pesaro e Regione per portare degli imprenditori in Georgia affinché attraverso B2B, attraverso incontri tra imprese dei vari settori, ad esempio uno dei settori interessantissimi è il settore della calzatura. Lavoriamo su questo, lavoriamo insieme, lavoriamo insieme al Comune. Quindi economia e cultura sono due elementi importanti che uno non può fare a meno di l'altro. Noi cerchiamo di metterli insieme e di dare delle risposte soprattutto per il territorio, per l'impresa e per l'economia. Grazie alla settimana della cultura georgiana, l'ambasciatore Saccarulizza è qua a Pesaro e possiamo dire che la cultura sta diventando un ponte anche per l'economia? Siamo nel mitagge, d'accordo con lei. Perché realmente, veramente, la cultura è proprio il ponte tra i popoli, tra diverse culture e tra diverse mentalità e poi porta anche ad altre opportunità. L'esempio di questo era l'incontro di stamattina col Presidente Trudi. Perché i rapporti stretti, sia culturali che quelli di commercio e economici, aiutano molto a rapportarsi, ad avere le relazioni molto strette tra i popoli. Lei oggi ha lanciato anche un messaggio importante, ha detto che gli imprenditori pesaresi, marchigiani che vorranno lavorare in Georgia avranno il sostegno garantito del governo. Come? Devo confermare questa cosa, che proprio le aziende italiane hanno interesse specifico del governo georgiano. Abbiamo le condizioni ideali, praticamente, di doing business in Georgia oggi. Non può essere sorprendente, perché però in Georgia è possibile fondare un'azienda in mezz'ora.